Ah, ecco qua c'è un pino, mamma mia! Uè, non vado a fare tutti i figli, eh? Ecco a me, finalmente sono lì. Ecco tutti che fai, ecco tutti che fai, ecco tutti che fai, ecco giocissimi, ma fai un'accavata bracciata. Ecco a me! La porta, la porta! La porta, com'è, c'è! Ascoltiamoci! Ma che fai, guardi dentro, guardi me! No, no, guardo solo a te! Cristi! Presidente! Mamma mia parla, Cristi! Mamma non è che scoppia tutta cosa, la mamma, Cristi! È che scoppia! Ma tu sei bello, Cristi! Smanbella, ma è sana, ma è sana! Cristi, ma non hai sentito rubato? Sì! E tu facciaci male! No! No, no, io provandolo, ti puoi guardare, vado di là, ma dov'è? Ma non mi hai detto che l'emminista arrivata di Giorgiato non si faceva? Eh, no, ma hai capito! Ma mi hai gradito! Tu, uomo di merda, mi hai gradito! Aiuto! Io d'afforso! Io d'afforso! E io d'afforso! Io d'afforso! Io d'afforso! Quanto amore! a a eh cazzo a eh eh traditori d'agì hai detto che leonca ministari a the9 no ed è i che 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 chi che que che 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 crazy Grazie a tutti.